Buongiorno da WTV News. Oggi, lunedì 8 maggio, è la Madonna del Rosario di Pompei e della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Questa giornata è stata istituita all'8 maggio in occasione dell'anniversario della nascita del suo fondatore, Harry Dunant, per il riconoscimento dell'enorme sforzo dei volontari senza mai traspurare la funzione primaria dell'Associazione nel campo della diffusione del diritto internazionale umanitario dell'educazione, dell'intervento in emergenza, della tutela della salute e della prevenzione e nelle tante attività socio-assistenziali su tutto il territorio nazionale.